This episode is brought to you by Paramount Plus. Ewan McGregor stars as Count Alexander Rostov in A Gentleman in Moscow, the new limited series based on the best-selling novel. Stream it with the Paramount Plus with Showtime plan. Visit ParamountPlus.com to try it free. Paramount Plus Ewan McGregor stars as Count Alexander Rostov. C'è quindi un brano che non esiste più ma è esistito in altre parti a dimostrazione del fatto che comunque è una canzone che forse meritava di uscire, meritava di essere in forma ufficiale. E' invece semplicemente una demo che abbiamo modo di ascoltare in forma non ufficiale quando ci va scomodamente su YouTube. Ed è molto figa perché il day weekend di quella fase lì diciamo è un day weekend che non troveremo più, non troveremo diverso o magari in una forma anche che piace più, più mainstream. Però ecco quella fase proprio post successo in cui inizia a capire è quella, il successo non è neanche quello plateale cioè inizia ad esserci e quella è unica per l'artista, un po' come l'adolescenza.